Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 17 dicembre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme, manca una settimana al Natale e purtroppo c'è da dire che su questo Natale pesano ancora molte incognite, oggi dovrebbe essere la giornata chiave proprio per capire che tipo di Natale sarà, sia a livello nazionale che a livello locale, sicuramente ci saranno delle restrizioni, questo lo abbiamo capito perfettamente, ma capiremo oggi che tipo di restrizioni. Il nostro ospite di questo giovedì mattina, come sempre, è Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, buongiorno Diego. Buongiorno Marco. Cominciamo con l'apertura di Vita Trentina, chiaramente è tutta dedicata al Natale, un Natale così particolare e voi l'avete voluto testimoniare, proprio con questa foto rinasce in ospedale, è una foto nel latino del Santa Chiara, ovviamente con il presepe. Sì, un segno di Natale in un luogo simbolo per quest'anno 2020 della pandemia. Vita Trentina ha deciso di dare appunto agli ospedali, raccogliendo in questa immagine anche le case di cura, gli altri luoghi in cui si soffre, per sottolineare appunto come l'incarnazione quest'anno arriva dentro la fatica della gente, delle persone, degli ammalati, dei familiari. Abbiamo raccolto una testimonianza di prima linea, come si dice, quella di un medico in un reparto Covid del Santa Chiara che lascia cogliere anche l'emergenza che, come dicevi, è ancora in corso e che ci lascia molte incertezze sul futuro. Il tuo editoriale, io andrei sul tuo editoriale, il titolo è Con il fiato corto davanti al bambino e qui ovviamente permettimi di fare anche un riferimento personale perché tu questa esperienza col Covid l'hai vissuta in prima persona, ecco, quindi questo si capisce insomma anche dalle tue parole, no? Sì, in modo, devo dire, molto meno pesante di altri. Non ho provato a ricovere in ospedale, però è stato un mese a casa piuttosto impegnativo e questa esperienza soprattutto dell'incognita per il decorso, no? Subdolo di questa malattia così soggettiva, così individuale, mi ha così consentito, ecco, di sentirmi anche vicino a quanti la vivono ancora sulla propria pelle. Ma il fiato corto è anche un'immagine simbolica, se vuoi, di operatori economici che vedono la loro attività in affanno, di insegnanti, studenti che vorrebbero tornare il 7 gennaio ma ora non si sa se potranno farlo e di anziani che devono prolungare la loro solitudine, altrettanti familiari. Ecco, e allora che dice il Natale in questa situazione di debolezza. È la riflessione che abbiamo fatto anche con l'aiuto di Fra Francesco Pattoni, custode di Terra Santa, che ci ha portato la testimonianza nel secondo editoriale dei parrocchiani di Betlemme che dicono togliececi tutto ma non togliececi la possibilità di ritrovarci a celebrare il Natale, ascoltare una parola che sia di speranza e di fiducia. È chiaro che poi questa speranza, questa certezza storica del Dio che si fa uomo passa anche attraverso la nostra capacità di farci i prossimi agli altri. Restando qui alla prima pagina stiamo proprio vedendo questo documento che è esclusivo, proprio scritto per Vita Trentina, di Fra Francesco Pattoni, custode di Terra Santa. Restando proprio alla prima pagina mai più emergenza. Arriva il freddo, aumenta il bisogno di accoglienza in quest'anno così particolare, no? Sì, in uno dei nostri servizi natalizi diamo conto di un intervento del Vescovo e della Caritas con cui la diocesi fa la sua parte. Trova 15 posti letto nella residenza di Santa Massenza, Villa San Nicolò, anzi sulla collina di Trento. Però auspica anche che si possa dare una risposta più strutturale a questo problema e che ogni anno non si debba appunto richiamare in causa questa parola dell'emergenza freddo che dovrebbe essere anacronistica. Entrando e sfogliando proprio le pagine del settimanale diocesano c'è il messaggio del Vescovo agli ospiti in RSA. Ecco, su che cos'è che punta l'attenzione proprio Don Lauro? Ma con la sua sensibilità il Vescovo dice semplicemente non siete soli, non sentitevi soli, c'è una comunità con voi, speriamo di poterci rivedere presto e poi invita gli anziani a contemplare il presepe, questa realtà di famiglia, Maria, Giuseppe e il bambino che è venuto a salvarci e che quindi ci dà fiducia, ci dà speranza. Ecco è un messaggio video che sarà trasmesso in tutte le RSA del Trentino, ci richiesta proprio degli stessi amministratori e che ben volentieri l'Arcivescovo ha consegnato loro. Vita Trentina ne pubblica il contenuto. Come accade ormai da tre settimane se non sbaglio proponete una storia di rinascita, una storia di rinascita nell'avvento proprio. Che cosa raccontate questa mattina? La storia di Pino della Sega, qualcuno dei nostri ascoltatori certamente lo conoscerà perché è un noto istruttore di Nordic Walking ed è famoso in Val di Fiemme per aver avuto quest'idea di collocare la statua del Cristo Pensante a Passorolle sulla cima del Castellazzo. Bene, due anni e mezzo fa Unictus ne ha cambiato la vita, le prospettive e da allora Pino è impegnato in un cammino di ripresa molto lento, molto graduale, ma molto significativo come risulta dalla testimonianza che ha scritto per noi. Parlate poi anche di dialogo fra le religioni con una pagina in cui viene raccontata un po' quella che è l'opera di Lia Giovanazzi Beltrami che chiaramente abbiamo conosciuto sia come donna politica, diciamo così, ma poi soprattutto per il suo impegno proprio anche come regista per il dialogo tra le religioni appunto. Sì, abbiamo voluto mettere in evidenza questa testimonianza di Lia Giovanazzi che ha ricevuto tra l'altro in questi giorni un ulteriore riconoscimento, il suo lavoro professionale e culturale che è molto apprezzato a livello internazionale e in quest'ambito un'altra persona di cui ricordiamo questa settimana la testimonianza è Pier Giorgio Cattani, nostro collaboratore che è stato ricordato pochi giorni fa dagli amici del Margine e della Rosa Bianca. C'è l'inserto trimestrale questa mattina con Vita Trentina, l'inserto Questi miei fratelli. Che cosa raccontate questa settimana? Sì, per chi non lo sapesse questo periodico che solo da qualche mese insomma viene veicolato come inserto di Vita Trentina ma che ha una sua identità, una sua storia anche lunga, si occupa dei temi della fragilità e della cura, nasce nell'ambito del servizio a malati, pellegrinaggi della diocesi e riporta molte testimonianze, molte voci e anche alcuni spunti di spiritualità soprattutto nella spiritualità della cura. Non è un sussidio, è una lettura che credo possa interessare a tutti. Noi abbiamo dato così qualche spunto sulla lettura di Vita Trentina in edicola questa settimana poi mi dirai se c'è qualcos'altro su cui i nostri lettori e i nostri telespettatori devono puntare l'attenzione. Io però ti voglio anche chiedere... Sì, se ti posso interrompere allora mi premerebbe appunto l'altro strillo come si dice in gergo che abbiamo messo in prima pagina, questa vicenda delle campane del Duomo che cent'anni fa sono arrivate sul nostro campanile per via di un dono. La gente di Mantua che con un certo spirito irredentista dell'epoca volle ridonare, facendo una raccolta di fondi, i soldi per fare queste nuove campane visto che le precedenti erano state fuse per essere inviate in guerra così come era successo in tanti paesi trentini. Ecco, domenica 20 dicembre che è l'anniversario esatto, il Vescovo ringrazierà i mantovani non ci sarà un incontro diretto ma c'è un libro e anche una mostra che si può vedere in forma virtuale allestita sotto il Duomo di Trento di questa vicenda davvero emblematica. Dicevo, questa è Vita Trentina in edicola questa settimana la prossima settimana ci sarà invece un numero speciale io ti chiederei di raccontarlo anche perché noi appunto la prossima settimana con Mattino Insieme non saremo in onda proprio per le festività natalizie ma quello di Vita Trentina sarà un numero veramente particolare, un numero speciale, no? Sì, questa edizione speciale che si aggiunge ai consueti 50 numeri annuali di Vita Trentina è dedicata proprio all'anno 2020, un anno da non archiviare, l'anno del Covid ci è sembrato quasi indispensabile e necessario fornire una documentazione non solo una retrospettiva, ci sono le nostre copertine riepiloghiamo i fatti, le fasi di questa pandemia ma soprattutto una lettura, una riflessione abbiamo chiesto ad almeno una ventina di firme, i nostri collaboratori ma anche osservatori, interpreti autorevoli in vari ambiti della cultura, della scienza, della spiritualità di riflettere su quanto questo anno ci consegna di esperienza, di lezione tra virgolette e come avviarci verso il 2021 Chiedo che sia un numero da conservare e vi invito anche, invito chi non fosse abbonato magari ad acquistarlo nelle edicole dove si troverà dopo Natale dal 28 dicembre in poi Un numero un po' da collezione che riflette su un anno che nostro malgrado resterà un anno veramente segnato nei libri di storia, ecco ricordato per sempre Sì, pensiamo che sia un compito anche di un settimanale Fissare la memoria, ecco non solo per ripercorrere quanto abbiamo sofferto ma anche per coglierne dei motivi di futuro Dicevo prima in apertura che oggi sapremo bene o male che Natale sarà Tu Diego che cosa pensi, che Natale sarà questo per chiudere questa nostra chiacchierata e rivolgere poi anche da parte tua ovviamente un augurio ai nostri telespettatori Io sono dalla parte della prudenza e del realismo insomma pur comprendendo tante esigenze tante sofferenze prolungate di operatori economici e non solo però se la situazione è pesante, quella descritta dalle cifre che ora abbiamo anche qui nel nostro tentino nella loro forma reale è giusto che le misure prese dagli amministratori siano corrispondenti Costerà qualche sacrificio in più però nulla è più grande del rispetto delle altre persone e soprattutto della vita di ognuno di noi Grazie, grazie infinite a Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina per i pensieri che tutte le settimane porta qui a Mattino Insieme Grazie veramente Grazie a voi E un augurio chiaramente a te, alla tua famiglia e ovviamente a tutti i tuoi colleghi della redazione Grazie anche alla vostra redazione e a questo piacevole incontro del giovedì che speriamo di riprendere anche nel 2021 Assolutamente sì, questo lo possiamo già dire che l'incontro sarà puntuale tutti i giovedì mattina con il settimanale Dio Cesano Grazie infinite a Diego Andreatta